vivo il pesce azzurro le alici così ricche di omega 3 oggi ci occupiamo del modo in cui pulire questo pesce così genuino rispetto ad altri tipi di pesce ci sono due modi in cui noi andiamo a pulire non so voi magari ne conoscete uno solo non ne conoscete nessuno ne conoscete certo il primo modo è di sbiscerarle naturalmente anche nel secondo metodo il tutto avviene sotto un piccolo getto dell'acqua le apriamo e andiamo a togliere la spina naturalmente per fare questo lavoro di precisione non poteva che esserci ricche e questo è il primo metodo il secondo metodo può sembrare identico invece non lo è togliamo la testa anche qui apriamo solo una piccola parte per togliere l'interiora sciacquiamo bene ecco qua due metodi due metodi diversi per quale motivo il primo quindi tutta aperta la nostra alice per fare dei tortini oppure per farla fritta dorata e così aperta a metà di solito noi utilizziamo questo pesce per farlo sia al forno sia fritto oppure alla scottadito ma queste altre ricette poi sicuramente le vedrete nei prossimi video e voi avete un modo specifico per pulire le alici magari fatemelo sapere sotto nei commenti ti lascio un kiss tu lasciami un like e ci ritroviamo al prossimo video ciao